e passiamo a Sporting Lirbona di Nemo Tirana 1-0 immagini sono bruttissime prima c'è un palo da parte dello Sporting Lisbona poi vediamo l'azione del gol segnata da Venanzio l'andata era stato 0-0 in Albania quindi passa lo Sporting Lirbona grazie a questo gol segnato da Venanzio 1-0 basta e avanza per lo Sporting di Lisbona Osasuna Pamplona, Varegen 2-1 ma passa la formazione